Ben trovati, seconda parte di Roma città aperta, dunque nella prima abbiamo parlato delle operazioni antidroga compiute in giornata, importanti operazioni, poi abbiamo parlato della Tares, c'è tempo solo fino al 24 gennaio per pagarla, ma c'è stato per fortuna uno slittamento di almeno una settimana per consentire a chi sta ricevendo la documentazione per il pagamento soltanto adesso, insomma in forte ritardo perché appunto in realtà doveva già scadere il 16 il termine di pagamento, ma appunto si è deciso di lasciare una settimana in più senza nessun aggravio per morosità proprio perché alla fine la responsabilità è naturalmente dell'ente che non è riuscito a far raggiungere a tutti quanti gli utenti e appunto a far arrivare a tutti quanti gli utenti il bollettino e anche il modello F24. Dunque se volete parlare di Tares vediamo qualche informazione, comunque vi ricordo che è uscita questa comunicazione sul sito del Comune www.comune.roma.it per avere qualche informazione in più. Tra poco parleremo proprio di AMA e di rifiuti perché oggi è previsto un'assemblea capitolina tutta dedicata a questo argomento. Intanto però saluto l'ospite che è venuto a trovarci in questa seconda parte Luigi Boccilli, bentornato. Ben trovati. Siamo stati insieme, allora soltanto due o tre giorni fa venerdì scorso abbiamo iniziato a parlare di questo Signore in carrozza che è un'opera imponente, anche fisicamente imponente ve l'ho fatta vedere l'altro giorno, questi sono tre volumi, guardate qua tutta opera del signor Luigi Boccilli che raccontano il trasporto pubblico romano e raccontando del trasporto raccontano un po' della città e della storia d'Italia. Ne parliamo tra poco, abbiamo già pronto il Trello dei Fortuna per il collegamento appunto che vi dicevo sull'assemblea capitolina dedicata a LAMA. Buonasera Antonello. Buonasera Francesca, assemblea ancora che sta per iniziare, all'ordine del giorno sono due i provvedimenti. Il primo è un dibattito sul servizio di raccolta dei rifiuti a Roma dopo le polemiche che ci sono state a cavallo tra Natale e Capodanno per le mancanze e per i cumuli di rifiuti che si sono registrati per strada, soprattutto in periferia. L'altro è una proposta della firma 5 Stelle e Maggi in particolare sull'istituzione di un'anagrafe pubblica relativa alla raccolta e al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, cioè appunto per poter vedere condominio per condominio, quasi casa per casa, la natura dei rifiuti che appunto si gettano e quindi risalire eventuali tra virgolette contravvenzioni. Tutto questo in un clima appunto molto diciamo così delicato per la maggioranza, oggi c'è stato un vertice con Marino, Marino alla fine di questo vertice di maggioranza ha detto che il clima è sereno e tranquillo, anche se insomma si parla sempre più frequentemente di l'impasto che potrebbe riguardare e coinvolgere anche proprio l'assessore all'ambiente della Marino, anche per il mancato controllo che qualcuno gli addebita, almeno questo, del servizio di raccolta rifiuti proprio durante le feste. Va bene, grazie Antonello, poi naturalmente nel Tg del 19 vi daremo poi conto appunto di questa importante assemblea capitolina, torno a Luigi Bocilli. Dunque ricordavo appunto il trittico, i tre volumi dedicati alla storia del trasporto pubblico capitolino, vediamo, rivediamo, questa è la copertina del primo, tra l'altro è divertente perché Luigi Bocilli è molto bravo a dare i titoli e quando crea appunto una conseguenzialità dei titoli praticamente ci sta già raccontando qualcosa, quindi signori in carrozza, no aspettate devo farci rivedere il primo perché devo leggere, Al Galoppo è il primo, lungo le vie di Roma ed il terzo è sull'iserci della città, vedete che sono tre titoli diversi ma sono una frase compiuta, questo è un gioco che si diverte a preparare sempre con i suoi titoli, vero Luigi? Sì, in tutte le mie iniziative amo fare questo, nel 1985 scrissi un lavoro in breve che ora non c'entra qua, Il Paradiso Terrestre, 120 sonetti romaneschi collegati l'uno all'altro nella unicità del poema, argomento malvagità umana, ero partito per fare un sonetto scherzoso su Adame Deva e invece ne sono venuti 120 in un mese e mezzo, vabbè questa è un po' una mia caratteristica. La sua caratteristica davvero produce sonetti ogni giorno su tutti gli fatti che la colpiscono, ogni cosa mi colpisca in bene o in male appunto mi sollecita questa fantasia e quando questa fantasia non viene sollecitata da qualche cosa, oggi come oggi alla mia, beh veneranda vogliamo dire da praticamente, sto abbandonato sulla poltrona, sto male e devo fare qualcosa e questo ringrazio il cielo di avere questa opportunità, ecco sì. Allora riassumo brevemente la puntata precedente a questo punto, come si dice per i teleromanzi. Allora abbiamo parlato una scorsa settimana anche della sua attività di tranviere perché Luigi Bocilli è sociologo ma anche tranviere, ha avuto una lunga carriera nel mondo appunto di Atac, del trasporto pubblico, quindi ha lavorato all'interno della nostra azienda ed è per questo ricordato da tantissimi dei suoi colleghi, tanto che nella scorsa puntata nel discorso abbiamo ricevuto parecchie telefonate proprio di persone che volevano salutarla, abbracciarla per il bellissimo ricordo che avevano appunto di lei e del lavoro che avevate fatto insieme. Naturalmente se ci volete chiamare anche oggi, anche per domande, perché comunque Luigi Bocilli è un esperto della storia del trasporto pubblico, fatelo pure. Adesso sono cominciate a scorrere delle foto, l'altra volta le avevamo viste passare senza avere il tempo di commentarle, oggi cominciamo un po' a commentarle insieme. Da dove partiamo? Ci sono anche dei documenti tra l'altro, queste che stiamo vedendo scorrere sono quelle della scorsa volta, giusto? Perché eccoci, per esempio, così costava l'auto dei pionieri, quanto costava mantenersi l'automobile negli anni eroici dei pionieri, per dire no, di chi che ne ha trovate tante? Oltre 2.300. Oltre 2.300. E la maggior parte delle quali da fonti d'epoca, da fonti originali d'epoca non interpolate da altri autori, perché quando ci ho provato a interpolarle purtroppo sono cadute in moltissimi errori, anche il mio lavoro ci avrà degli errori, mi auguro di no e mi auguro che chi dovesse rilevarne me lo comunichi, perché praticamente lo metterei a punto per carità. Però ho trovato delle cose così aberranti, che è inutile dire qua, non c'è tempo per dirle, che mi hanno fatto perdere una grossa opportunità, quella di circa 10 anni fa, di pubblicare questo lavoro con la Pegaso di Torino. Sono andato per mettere a punto la bibliografia in Biblioteca Nazionale e lì ho trovato delle inesattezze tali, per cui ho rimandato, ho rimandato, ho messo a punto, però non tutti male, si suol dire, e questo è vero, almeno anche in questo caso mio, vengono per nuocere. E da quel momento, proprio cercando i vecchi documenti per poterli mettere a punto, ne ho trovati centinaia e centinaia di altri che mi hanno arricchito il lavoro. E quindi questa è stata veramente una grossa, bella cosa, sì. Allora, tra l'altro la cosa particolare da dire è che molte delle foto che si trovano nel libro, alcune delle quali vi mostriamo oggi in esclusiva, grazie a Luigi Pocilli, sono foto che nessun altro ha, insomma, fanno parte del suo archivio... Sì, del mio archivio personale, perché ho avuto una grossa opportunità, questa volta la vita è stata, tra virgolette, buona con me, mi ha attirato parecchi i calcetti, però questa volta è stata buona. Quando mi sono laureato, un funzionario dell'Adac, mi pare di ricordare che si chiamasse più o meno Palmerini, Palmarini, praticamente mi prestò una rivista del dopolavoro aziendale dell'epoca, dall'epoca, dal 1927 al 1936. E poi quando gliela riportai con in dono un mio libro di tesi, perché pubblicata è grazie al cielo un grosso successo, lui mi disse, ma chi meglio di te? Chi ha l'idea perché io sono vecchio, ma chi mi riporto dall'altra parte? E ha fatto bene, io lo ringrazio ancora chissà dove sarà, ma io spero tanto di poterlo rivedere, perché era una persona meravigliosa, comunque dicevamo di queste cose, questa rivista non si trova più in giro, per un semplicissimo motivo, perché all'arrivo degli americani nel 1943, 1944, praticamente fu distrutta dal dopolavoro aziendale, perché c'erano praticamente riportate le foto, i nomi dei geracchi aziendali. E non era il caso di farli... Quindi avevano paura, ma io, fu un'altra cosa, che papà e mamma bruciarono le mie fotografie da figlio della lupa e da balilla. E non saranno stati gli unici genitori di aver preso questa sofferta decisione, perché poi tra l'altro è un peccato non poter rivedere il proprio bambino. Peccato davvero, anche perché poi non è che abbiano fatto chissà chi, a niente, a nessuno, insomma, ci hanno provato, ma appena appena. Allora, dunque, abbiamo visto passare queste foto, adesso io le ho anche sul computer, così mi soffermo su alcune in particolare. Questo è interessante. Per esempio, l'Atag, allora si chiamava il nome precedente a quello attuale di Atag. Sì, perché era governatorato. Roma non era comune, ma durante il fascismo fu eretta a governatorato diretta appendice del governo nazionale. E questo non so se è un volantino, non so come sia stato diffuso, però è interessante perché fa vedere, racconta alcuni episodi di come l'azienda avesse a cuore il suo personale, lo difendesse anche dai passeggeri che protestavano troppo animatamente e quindi aggredivano, spero soltanto a parole, appunto il personale perché magari erano scontenti proprio del servizio o cose così. Ed anche questo non è un volantino, ma è una pagina di quella rivista. Ha una pagina di quella rivista, perfetto. E quindi era un resoconto di alcuni episodi che si erano verificati, ci sono nomi e cognomi. Beh, interessante. Posso dire che io credo di aver scritto qualcosa di sicuramente molto più umile di quello che scrivono altri, cogliendo i documenti dagli archivi di Stato. Il mio lavoro sicuramente è molto più umile, ma altrettanto sicuramente molto più vero. Più vero perché l'ho accolto dalle ruote, dalle impronte di ruote, di ingomma, in ferro, in ghisa e compagnia bella lasciate dai veicoli pubblici sulle vie della città. Cosa intendo dire per ruote? Intendo dire che i documenti aziendali mi hanno dato uno spaccato d'epoca, è lo spirito dell'epoca, questo dopo lavoro poi non ne parliamo, che veramente è vero, 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 proprio perché sta vicino la gente e parte dalla gente. Allora, gli episodi, ripartendo dal volantino che racconta, succedono anche oggi. Purtroppo li raccontiamo, raccontano i giornali nella nostra attuale epoca con situazioni in cui l'esasperazione del ritrardo, dell'arrivo del mezzo pubblico fa sì che ce la si prenda con l'autista che adesso è l'unico sull'autobus. Un tempo c'era anche il controllore, almeno stavano in due a dividersi. No, c'era l'autista e il bigliettai. E il bigliettai. Oggi è soltanto lui. Poi fanno carica a lui di colpe che lui non può avere perché lui è, tra virgolette, vittima del sistema e vittima, come accennavamo l'altra volta, anche del traffico veicolare caotico della città. E questo vale sempre la pena ricordarlo. Cos'è questo bigliettino invece che, insomma, scritto a mano che è inserito tra le foto speciali? Questo lo riconosco, sì, lo riconosco da qui. Questo è a firma del Parboni, Pietro Parboni, commissario aziendale. Ma quello che caratterizza questo Parboni è una cosa molto, molto importante. La nonna di questo Parboni era Giuditta Tavani Arquati. Voi conoscerete tutti a Roma, Piazza Sonnino. Dietro a Piazza Sonnino c'è Piazza Giuditta Tavani Arquati dove c'era, nell'Ottocento, l'anificio Agliani e dove lei stava tramando con il marito, c'erano anche i bambini, aveva, e con altri patriotti. Ecco perché parlo non soltanto della storia dell'anificio di Danio e di Spaccati d'epoca e dove qualche spiata indusse i gendarmi pontifici ad andare e a trucidarli tutti. Perché loro stavano... Stavano tramando in appoggio all'arrivo di Garibaldi. All'arrivo di Garibaldi. Nel 1848. E quindi sì, è bello questo riferimento a Giuditta Tavani Arquati, a questo Parboni, era una bella persona, era una bella persona. Allora, facciamo un salto temporale, arriviamo ai tempi del fascismo. Un salto temporale, sempre durante il fascismo. Questo è uno di quei palazzi appena in inaugurazione, edificati in via Appia. Tutt'ora ci stanno perché sarebbe un guaio se così non fosse. E questo è il giorno dell'inaugurazione e io sempre da quella rivista ho preso questa foto e non solo questa, ce ne stanno altre che narrano dell'evento, mostrano l'evento, lo documentano, praticamente dove c'era appunto questo, l'esaltazione, è chiaro, del duce del fascismo. È chiaro che... Tutto ciò che veniva realizzato a quel tempo doveva essere... Tutto ciò doveva essere ringraziato. E questo è di nuovo... Sì, sì. Sono passata avanti. Qui ci sono delle bambine dolcissime su dei binari del tram. Dove siamo? Si riconosce il luogo? Il 6 gennaio, ora non ricordo di quale anno, è chiaro, mi pare di ricordare del 1936, mi pare di ricordare del test riportato. Qui non c'era, ma... Devo ricordare tutto il guaio. Qui c'era una fitta rete tramviaria... La Befana fascista. La Befana fascista. La Befana praticamente per i bambini dei tramvieri. Ecco qua questi passerotti che vanno lì con i loro giocati. Ah, questo è stato un grandissimo amico, è un grandissimo poeta romanesco, Vincenzo Galli. Cencio Galli, detto la Soracencia, autore di parecchie pubblicazioni, che io possiedo perché ebbe la bontà di regalarmele, e ce l'ho a casa e le conservo gelosamente. Era il decano dei poeti romaneschi. E lui è stato, tra virgolette, il mio maestro iniziale. Quando ho ripreso, perché io da quando avevo 15 anni scrivo versi, ma da quando ho ripreso a fare il romanesco, lui mi è stato vicino e ha fatto anche la prefazione ad Argaloppo. Argaloppo, una serie di sonnetti romaneschi della storia del pubblico trasporto capitorino. E altra scena, secondo me. E questo con la principessa, non ricordo che principessa fosse, comunque di casa da voglia. Questa è in uscita dalla rimessa Lega Lombarda. Sempre Pietro Parboni. Ok, andiamo avanti. Ma le fotografie sono 694. Eh no, ma infatti noi diamo soltanto un così. Ci stussichiamo la fantasia e la curiosità. Il giorno della festa di San Giovanni, oggi non si festeggia più, è un peccato mortale. Abbiamo perso questo bel rapporto con la nostra romaneschità, io amo dire. Dunque, il... Vado veloce, perché non ce la facciamo. Era un carro che sfilava a San Giovanni, la vigilia di San Giovanni. E questo era Montemartini, l'ideatore della municipalizzazione. E questo è Montemartini. Si può procedere. Sì, praticamente questo è Montemartini. Noi conosciamo la centrale Montemartini, adesso che è diventato tra l'altro un bellissimo museo. Però magari non ci ricordiamo che era... E' stato lui ai primi del Novecento, un grandissimo economista. E' quello che ha ideato la municipalizzazione, poi attuata da Ernesto Nata, sindaco di Roma, come accennavo l'altra volta, dal 1907 al 13. Un grandissimo sindaco, sicuramente il più grande. Io ne ricordo un altro grande. Sono quelli che hanno pensato a Roma come un porto di mare. Berlinguer, sì. Questo è Roma-porto di mare. Ecco, questo per dire che nel periodo fascista si voleva proiettare Roma al mare. Dopo invece si è soffocato il centro storico facendola crescere a espansione. Mentre invece c'era allora il progetto di proiettarla al mare. E quindi per dare proprio a Roma il mare. Il mare e quindi il porto di Roma. Ce l'ha lo stesso oggi. Se vogliamo mezz'ora vai e vieni. Però voglio dire, non è la stessa cosa. Però io dico nel libro che Romolo e Remo ebbero una grossa intuizione a creare, a costituire, a fondare Roma vicino al mare ma non sul mare. Perché in questo modo l'hanno tutelata dagli attacchi dei barbari e compagnia bella. Quindi insomma diciamo che forse parte della storia che conosciamo della nostra città è che si è insomma prolungata nei millenni anche in merito di quella decisione iniziale. Allora questa è un'altra bellissima foto con questi orti sul fiume. Questi sono gli orti sul Tevere perché per i giovani che non lo sapranno chiaramente durante la guerra mancava tutto, mancava. E si facevano gli orti negli spazi pubblici a Porta Maggiore. Io ricordo dove intorno alle mura c'erano gli orti. A via dei fori imperiali, non so se qui l'ho portata la foto, però c'erano gli orti. E si trebbiava, piazza del popolo, si trebbiava. C'ho la foto di piazza del popolo dove si fa la trebbiatura davanti eccetera. Allora quello è il Tevere quando era ancora biondo. Quando era ancora biondo, che era ottimo per l'irrigazione degli orti. Gli orti comunque sono tornati molto di moda, ne parliamo sempre spesso. Luigi c'è una telefonata in linea, credo non sui nostri libri di oggi, ma su un altro argomento. Buonasera, che abbiamo? Buonasera, sono Bernardo Cernemati. Complimenti per queste belle foto che sta facendo vedere. Grazie. Io le telefono perché ho 76 anni, vado in giro ancora con la motocicletta. Io abito a Piazza Bologna, a Via Lorenza e Magnifico. In fondo a Via Lorenza e Magnifico. Vorrei sapere chi è addetto a pulire tutti i tombini di Roma? Quando li puliscono, perché in fondo a Via Lorenza e Magnifico, quando piove, come stamattina, diventa un lato. Tutto allagato. È come una vasca. E se passa con la motocicletta si rischia di agliascare con la moto, anche con la gente che cammina a piedi. E poi, siccome, come le ripeto io, dei dinomi che ne faccio abbastanza con la moto. Quando vado al cimitero a prima volta da mia madre, prima di arrivare al cimitero c'è quel tunnel e lì sembra da entrare dentro. Ci sono le luci, mi sembrano le luci che ho messo a mia madre sulla tomba. Dico, vorrei sapere che ci vuole andare in imbiancata a queste pareti dove ci sono i sottopassaggi. Anche andando ai sottopassaggi per andare a piazzare giù a Framinio. Ci sono quei muri, ma dico, ma che ci vuole andare in imbiancata? Certo, aumenta la luminosità. Io sono rammaricato, le sto telefonando perché sono proprio rammaricato che Roma la devono lasciare così. Proprio è bella, però, porca miseria, la lasciano così abbandonata. Che ne dice lei? No, Bernardo, ha ragione, ha ragione. Adesso prendo, intanto ho segnato questa nota. Questa è a via non è che magnifico. Qui chiediamo al municipio di fare una pulizia veloce. che sono pieni di terra, che ci vorrebbe che nel mese di luglio, agosto, maggio, giugno, agosto, che è tutto asciutto. Che ci vuole queste ditte che pieno i soldi dai comuni? Il problema sono i soldi, Bernardo. Grazie, grazie mille. Allora, siamo alla fine, Luigi. Anche oggi non ce l'abbiamo fatta a parlare di tutto, però a questo punto chiudiamo con un sonetto. Ne dobbiamo scegliere uno, allora scegliamo proprio quello dedicato a noi. Luigi Ebocii, che è venuto a trovarci la scorsa settimana, dopo la puntata, ci ha dedicato un sonetto in romanesco. Allora chiediamo comunque. Sì, Roma città aperta. Si tratta di un gioco di parole fra il titolo di Roma città aperta attribuito a Roma nel 1943 per salvaguardarne l'immenso patrimonio culturale dai danni bellici e il programma tuttora condotto su Roma 1 da Francesca della Giovan Paola. Parlo da Roma 1, città aperta, dice Fefea Cocò che è tutto orecchi. E' aperta chi, Fefea, li princi sbecchi? O fa la fine poi che ha fatto a Berta? A quella che ci venne da Caserta, per morì a Roma sotto all'apparecchi, margrado fosse aperta? Brutti becchi che l'hanno bombardata e riscoperta. No, io non dico quello, aperta dico alla cultura vera, a quella pura, che mica sopra solo arvippe amico, ma chi se sia se sia nella misura qu'uno non si der tutto un pappa figo e che non dichi solo una freddura. E questo è per appunto il bel programma che vi è portato avanti da Francesca, Francesca, di cui l'ho detto già nel telegramma, Francesca ha detto chi? Quella fantesca? Ma che vuoi fantesca? Quella che infiamma? Roma 1, che tanto beccia fresca. Grazie, grazie Luigi. Allora, poi a questo punto dobbiamo rivederci un'altra volta, perché non abbiamo finito anche oggi di parlare di tutto quello che c'eravamo riproposti, di affrontare. Io ringrazio i nostri telespettatori che ci hanno seguito, ringrazio tantissimo Luigi Boccelli. Roma Città Aperta torna domani dalle 15.30, il telegiornale invece alle 19.00. Arrivederci. Grazie a tutti.